Ben trovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Terribilea sul canale 89. Avevamo fatto cenno ieri, se ricordate, a questo problema del parco degli Iblei. Perché martedì mattina c'è stata una riunione alla Commissione per l'ambiente alla regione siciliana nella quale Commissione il Presidente, che sarebbe l'onorevole Carta, sindaco del comune di Melilli, ha preso questa storia del parco molto a cuore. Perché quello che è stato scoperto in pratica è che c'è un itere assolutamente non preciso nella sua realizzazione e quindi la decisione di quella giornata, quella di ieri, sarebbe in qualche modo di presentare un ordine del giorno per chiedere lo stop al itere del parco degli Iblei. Dobbiamo anche dire, io leggo quello che c'è scritto sul giornale, perché questo è un articolo uscito nella provincia di Siracusa, quindi è stato chiesto la sospensione del litere istitutivo, pensate, perché né le associazioni né i cittadini stessi sarebbero stati messi nelle condizioni di verificare la perimetrazione. Quindi sarebbe il caso di sospendere immediatamente l'itere del parco degli Iblei. In questa audizione di ieri alla Commissione c'erano molte organizzazioni importanti, fra cui naturalmente c'era Confindustria, le associazioni più importanti che seguono le vicende dal punto di vista dell'ambiente, dell'industria, il consorzio siciliano Cavatori, le cave, il comitato antiparco degli Iblei, Sicilia Nostra, Liberi Cacciatori, l'Associazione Nazionale Cacciatori, Italcaccia, hanno espresso la richiesta di sospendere il parco. Allora, vi devo dire anche un'altra cosa, perché è importante fare un discorso su a chi può interessare o meno. Allora, vi posso dire che i comuni interessati al parco sono un bel po', sono, mi ritello Val di Catania e Vizzini in provincia di Catania, in provincia di Ragusa, che era Monte Giannatana, Ispica, Modica, Monte Rossoalmo, Ragusa, praticamente metà della provincia di Ragusa è nel parco degli Iblei, poi Siracusa, Avola, Bucchieri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francoforte, Lentini, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, la provincia di Ragusa ha due terze nel parco degli Iblei. Addirittura, se voi pensate che questi comuni, Giarradana, Monte Rosso, Bucchieri, Buscemi, Canicattini, Cassaro, Ferla, Palazzone e Sortino, tutto il territorio di questi comuni insiste, o meglio il parco insiste su tutti i territori di questi comuni, Giaradana e Monte Rosso, poi Canicattini, Cassaro, Ferla, Palazzone e Sortino, che vuol dire? Che in quei territori, una volta istituito il parco, non si può fare più niente. Allora io sono d'accordo che bisogna rispettare come dice Lega Ambiente, questo è il paese che ci avete regalato voi, questo è tutto quello. Io sono d'accordo, ma un parco che ha tutte queste criticità che sono state espresse alla fine, voi vedrete che i sindaci diranno a noi basta che non sia troppo chiuso e poi gli unici a favore saranno solo Lega Ambiente e qualche altra associazione ambientalista, che però, dobbiamo dire, la verità non lavorano. Perché quello che è stato detto più volte dalle organizzazioni che nel parco lavorano, vale a dire associatori, allevatori, agricoltori e tutta questa gente, è chiaro che il parco li preoccupa. Non è che non lo vogliono, ma sono preoccupati, perché se un allevatore non può fare certe cose è chiaro che come fa a vivere. Quindi questa vicenda del parco, secondo me, non sarebbe sbagliato rivederla. È anche vero che, per esempio, il Movimento 5 Stelle con l'Onone Campo diceva come siamo arrivati a questo punto. Ora ci pensiamo, però dobbiamo anche dire che il parco ha camminato sulle teste delle organizzazioni. Cioè il parco, non so se c'era qualcuno, qualche, come dice l'amico mio, qualche manuzza, ma è andato oltre ogni protesta come se fosse scritto nella Bibbia e bisogna farlo. Ora capite che ci sono 10 comuni dove non avranno un centimetro quadrato di spazio senza parco, tipo Giarratano e Monte Rosso, tipo Palazzolo, tipo Sortino. Quindi qualcosa bisognerà sicuramente. O Buccheri, a proposito di Buccheri, avremo un'intervista domani sera con il sindaco di Buccheri, Alessandro Cagliazzo, che ci spiega quale sono le difficoltà in cui andranno incontro i comuni che hanno tutto il loro territorio. Manco l'acqua possono andare a cercare. E poi qualcuno faceva le battute, non potrei prendere neanche i lassari. Il parco, attenzione, non è dove uno va a fare la schidicchiata o l'arrostuta. Quelle sono aree attrezzate. Il parco è tutta un'altra cosa. È un territorio enorme dove ci sono delle restrizioni pazzesche. Ma il parco dello Zingaro, ma sono piccole realtà dove effettivamente lì ci sono delle realtà molto particolari, ma è ben ristretto. Il parco dello Zingaro è quello lì. Qua invece siamo ad essere più grande del parco del Gran Zazzo. Quindi è chiaro che siamo di fronte delle situazioni enormi. E allora, soprattutto in una realtà come quella nostra, dove ora la crisi degli allevatori sta diventando sempre più pressante, perché sono un mese, un mese e mezzo che ne parliamo, ma soluzioni vere non ne abbiamo. Da mattina c'è stato un incontro a Palermo con l'assessore San Martino. Queste sono le immagini. Vedete Dario Cartabellotta, che è il commissario delle acque. E allora c'erano le varie rappresentanze, alcuni sindaci, per parlare di queste esigenze, di queste difficoltà che sono state espresse dagli allevatori al vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura. Agricoltura e pesca, perché il problema è stato sollevato anche per quanto riguarda la pesca, che, attenzione, qui non è un problema di siccità con la pesca, ma anche i pescatori vivono una crisi incredibile. Bisognerà per forza cercare di aprire un tavolo di interventi, di discussione per intervenire. Gli aiuti non sono delle cose così. Bisogna davvero intervenire. Allora, sentiamo le interviste che ci ha fornito la regione con i link video. Vediamo.